. Io volevo andare soltanto a una cosa, io ero nel Germano e ho un bugio di qui e ho fatto un po' papi, ho fatto un po', io sono toccato, e parte me ce l'ho male, è arrivato subendo e ho fatto una cosa, era la ragione con le cassette, e io ho fatto una cosa, 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 e poi lo faccio e ho fatto una cosa, e io ho fatto una cosa, e le faccio i bagiacchi, soprattutto un super Nove Sex e li ho ghosts per a casa, e l'ho toccato, e le cutie hai la mia barrella e ho fatto una cosa, e io ho fatto un po', e poi lo faccio anche con quale, po' un po' con la sua Fabri e non avevo prova niente, io sono sotto thickness a me, allora perché, e non lo faccio la mia cuffia, io sonoculo in lancio a piedi, e говорю io e cyrë a piedi anche il c**lo, Guapeno. Arrivederci.